Mi sto trovando tanto bene come nuovo ruolo, mi sto adattando sempre di più, seguendo sempre i consigli dei più grandi e dando sempre il meglio per la squadra. Penso che stiamo andando bene, dobbiamo continuare con umiltà e dando sempre il massimo come stiamo facendo. La gara di domenica sarà una gara molto importante da ambo le parti perché arriviamo entrambi da due risultati positivi e entrambi prima di questi due risultati positivi da due negativi, quindi sono stati due riscatti sia da parte nostra che da parte loro. Quindi sarà una novità come partita, noi daremo il massimo e daremo tutto anche per tutti i tifosi nero-verdi che verranno a vederci.